La mia passione, anche da bambino, era quella di creare l'industria dei biscotti, dei pasticcini. Questa era la mia idea, non farla artigianalmente ma industrialmente. E da lì ho iniziato la storia dei biscotti che poi sono diventati tutti pasticcini. E tutto questo con gli insegnamenti di Matilde Vicenzi e con l'assidua assistenza di Papa Angelo, ho creato un qualche cosa che era né più né meno la mia passione. Il mio padre che è venuto a Milano e che mi ha portato per la prima volta alla Fiera di Milano, che era la prima di dopo un anno. E lì mi ha fatto toccare con mano la prima macchina del biscotto. Per me è stata un'emozione enorme. Il mio padre è stato anche il suo profilo pratico e quello che mi ha destinato la passione. Non sapevo una parola in inglese. Non ero mai andato all'estero e non avevo mai volato. Ma era talmente tanta la mia volontà di conoscere il mercato inglese, di conoscere cosa facevano gli inglesi nel mio campo, che sono andato da solo nel 1955 a visitare una Fiera dove ho potuto anche toccare con mano quelli che erano i prodotti che già allora gli inglesi producevano e consumavano. Gli inglesi sono stati un po' gli inventori, se vogliamo, del prodotto d'oggi secco. Io sono andato addirittura in Giappone a prendermi l'impianto che oggi, attora, produciamo una passaforia che ha 192 pieghi di pasta. Una delle cose che mi si sono fissate nella testa e nella memoria è che nell'inverno, i freddi, con Nonna Matilde ci si riuniva dopo cena a incattare gli amaretti a due due. E questo è il materiale che usavamo, tale e quale. è il materiale che ci si riusciano a prendermi l'impianto. Il mio principio è sempre la qualità, ma sin dai primi passi, perché questo mi ha insegnato mia nonna e mio padre. E io ho sempre padrato la qualità. La mia nonna e delle cose che ne sono trovati! E io ho sempre capito, hai una direzione, io ho anche capito! Lo ho sempre capito! La mia nonna e delle cose che si riusciano a prendermi l'impianto